Ben trovato Alessandra, ben trovato a te Giulio Cesare, ben trovate, buon pomeriggio a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, teleascoltatrici e teleascoltatori perché lo ricordo, lo ricordiamo, siamo anche in tv al 252 252 della Smart TV, se vorrete potrete oltre che ascoltarci anche vederci. E allora oggi tentata tutta all'insegna dell'energia, l'energia positiva, quella che potete giurarci io cercherò di trasmettervi insieme a tante importanti informazioni, lo spero, ma parleremo di quell'energia che muove l'inflazione. Ed è per questo che vi anticipo alle 17 qui su Radio Libertà, qui nello spazio rumore, sarà ospite in diretta con noi il professor Davide Tabarelli, presidente, fondatore, presidente di Nomisma Energia, una delle massime autorità in materia. E a lui chiederemo molte cose, chiederò molte cose, farò una domanda semplicissima, come salvarci da questa ondata inflattiva, da questa tempesta che ci sta travolgendo? Anche perché il professor Tabarelli ha rilasciato delle rumorosissime dichiarazioni in questi giorni, perciò state qui, state con noi, ascoltateci e vedeteci. E dunque, allora, però, che cosa succede? Succede che il titolo della puntata, il titolo che ho dato a questa puntata è Il caro energia mena sulla pasta, le bollette schizzano con i mutui in collo. E perché? Perché in tutta questa tempesta, appunto, come dicevo, abbiamo dimenticato qualcosa, qualcosa abbiamo tralasciato, E cioè, mutui, prestiti e l'ondata inflattiva, come impatta sui mutui e sui prestiti? Ed è per questo che ho chiamato un esperto, il dottor Vincenzo Imperatore, che vedo collegato. Buonasera, dottore Imperatore. Buonasera a voi, grazie a tutti. Buonasera, un esperto perché è un ex dirigente di banca e oggi un consulente di direzione aziendale, che sa proprio tutto sui mutui e sui prestiti e quindi potrà aiutarci a decodificare meglio questa materia, gli odiati mutui che però poi tutti alla fine ricerchiamo. E poi, e poi ho il piacere oggi di avere qui in trasmissione un giornalista, autore Rai, capo autore di una bellissima e famosissima trasmissione, Linea Verde, su Rai 1, che va in onda la domenica, nella tarda mattinata da mezzogiorno in poi, ed è Camillo Scolini. Buonasera, Camillo. Buonasera. Ben trovato, felice di averti qui. E poi, devo dirlo, fondatore, insieme alla sottoscritta, di quel sito che io cito sempre, ecco, vedete, Camillo ha questo fantastico schermo creato dal nostro webmaster Francesco Callega, bieconomy, bieconomy.it. Un sito, Camillo, aiutami tu a definirlo, al di fuori del mainstream, vero? Dove noi cerchiamo, quando possiamo, di dire la verità in piena libertà, un po' come fa Radio Libertà. Dico bene? Ci sono tante notizie che non vengono date da quello che oggi viene chiamato il mainstream, ma in realtà dalla stampa ufficiale. e noi cerchiamo di valorizzarle. Benissimo. Allora, cominciamo con i mutui e poi andiamo al di là del mainstream e andiamo anche a fare un giretto nella nostra bella Italia, dove tu hai scritto tanti bellissimi testi, essendo appunto capo autore di Linea Verde, ci racconterai tante cose, soprattutto sull'inflazione e anche su ciò che succede nel campo della gastronomia, della enogastronomia, dell'agroalimentare. Ecco, Alessandra, intanto stiamo inquadrando la copertina del libro di Vincenzo Imperatore. Del di Vincenzo Imperatore, che poi anche è un collega, perché ha anche una rubrica, un blog sul Fatto Quotidiano. Vincenzo Imperatore, questo è, ti do del tuo, il tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo libro. Come facciamo a pagare? Salviamoci. Mutui e prestiti, tasse, cartelle fiscali, risparmi, redditi e pensioni. Come sopravvivere all'epoca del Covid. Un libro che tu hai scritto, il tuo ultimo lavoro, edito da chiare lettere. Dici tutto, quello che sai, perché i mutui sono un problema di tutti. Sì, sono un problema di tutti e come accennavate prima, se ne parla pochissimo. Diamo prima qualche numero veloce. A gennaio 2021 erano state presentate 2,7 milioni di domande di moratorie per i mutui. Cioè la moratoria significa, per il periodo del Covid, lasciatevi non pagare le rate del mutuo perché siamo in difficoltà. 2,7 milioni di domande per un totale di 300 miliardi di lire. Un altro numerino che fa paura. Banca IFIS, quindi non Vincenzo Imperatore, ma una banca di sistema, ha stimato in circa 400 miliardi di euro gli NPL, cioè i crediti che andranno male, che non saranno restituiti, a fine 2022. Perché faccio questa premessa? Perché il problema dei mutui è un problema che, sembra, in Italia abbiamo per un momentino accantonato. Se ne parla poco, se ne parla poco per un semplice motivo, perché la lobby delle banche nasconde un dato fondamentale. Se noi andiamo a vedere in che modo questi cittadini che ora, da qualche settimana, devono riprendere a pagare quei mutui, perché le moratorie sono scadute, o hanno perso il lavoro o i redditi si sono diminuiti, non sono più in grado di restituire quanto dovuto. Nel mio libro, una gola profonda di una principale banca del sistema, ci ha riferito che il 65% dei mutui stipulati tra il 2005 e il 2015, quindi se noi teniamo presente che un mutuo dura mediamente 10, 15, 20 anni, sono mutui tuttora in essere, il 65% di quei mutui sono sovrafinanziati. Cosa significa? Cosa significa sovrafinanziati? Cosa significa sovrafinanziati? Significa che un mutuo è stato, per l'acquisto della prima casa, quindi il bene, come dire, principe degli italiani, è stato finanziato per un valore superiore all'80% del valore di perizia dell'immobile. Facciamola semplice. Devo comprare casa di 100 mila euro, posso chiedere, prima casa del valore di 100 mila euro, posso chiedere un mutuo di non più di 80 mila euro. Bene, il 65% dei mutui presenti all'interno di questa banca di sistema, che è una banca che fa benchmark appunto nel sistema bancario, dice che il 65% sono sovrafinanziati, cioè le banche hanno finanziato più del dovuto. Cosa succede nel caso in cui il mutuo sia sovrafinanziato? Ecco la prima legge a cui i mutuatari, che non sono in grado di poter restituire i soldi... Sì, perché vediamo chi non è in grado di poter restituire i soldi, è questo che a noi interessa in questo momento, soprattutto per l'implatto inflattivo che stiamo subendo. Sì, cara Alessandra, ci sono delle leggi di cui si parla poco, ma che tutelano i cittadini, esistono nel nostro ordinamento. L'articolo 38 del testo unico bancario stabilisce che nel caso in cui un mutuo sia sovrafinanziato, quindi abbiamo detto uno di quei casi in cui io ho ricevuto 81 mila euro a fronte dell'acquisto di un immobile di 100 mila euro, sono nulli. Che significa nulli? Che non devo più restituire gli interessi, ma solo il capitale. E semmai ho restituito gli interessi, devo scalare gli interessi che devo ancora restituire dalla parte restante. La giurisprudenza come si sta comportando in questo caso qua? Ecco la notizia che manca, che non viene data. Torino, Taranto, Ancuna, Napoli, sono solo alcune delle sedi giudiziarie di 37 giudizi di merito e ben 14 sentenze della Cassazione che danno ragione a quei cittadini che appellandosi all'articolo 38 del testo unico bancario si sono visti riconosciuti quell'indebito che le banche stavano facendo. Quindi cosa bisogna fare in caso di difficoltà? Appellarsi appunto al testo unico bancario? Cosa bisogna fare? No, bisogna fare praticamente innanzitutto andare a fare velocemente una perizia econometrica sul mutuo e verificare se c'è questa discrepanza di questo 80% rispetto al valore di perizia dell'immobile. In quel caso là è possibile adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuti questi diritti. Questa è una delle leggi che tutelano i mutuatari morosi. Tu, Vincenzo, sei diventato... C'è un'altra legge ancora che è quella della salva suicidi. Qual è? Quella della salva suicidi, la legge 3 del 2012, che dice che nel momento in cui il mutuatario non è in grado di poter restituire le rate perché si trova in un'effettiva situazione di difficoltà finanziaria dovuto al rapporto tra il suo reddito e la rata che deve pagare, può appellarsi a questa legge salva suicidi, poi dopo semmai diciamo qual è la percentuale da considerare, la legge salva suicidi per vedersi quantomeno congelato, bloccato, qualsiasi tipo di procedura esecutiva. Perché le banche ci mettono tre minuti a fare il pignoramento sull'immobile e poi a metterle all'asta per andare a venderle all'incanto. Vincenzo, tu sei diventato famoso, adesso abbiamo fatto vedere la cover di questo tuo ultimo libro, ma per un libro scritto qualche anno fa che fece molto rumore, clamore, io so e ho le prove perché tu hai lavorato molto tempo in banca, eri un dirigente, un manager bancario, quali prove hai avuto, quali prove hai, ecco, nel concreto insomma, al di là delle notizie utili che ci hai dato finora? Sì Alessandro, cioè sulle truffe intendo, sulle truffe perché è bancario. del 2014 in cui ero uscito dal sistema da un anno e mezzo circa, in cui riuscimmo a dire tutto ciò che il sistema bancario aveva fatto per truffare, ma non il sistema bancario inteso come entità, diciamo così, molto generica e impersonale, ma quello che io stesso in qualità di dirigente avevo ascoltato, sentito e ordinato ai miei uomini per poter poi, come dire, fare quei profitti che la cronaca ci ha dimostrato essere dei profitti assolutamente non etici. Si andava dalle truffe di diamanti, sono stato il primo a denunciarlo, da cui poi l'inchiesta di report di Rai 3 e oggi l'arresto dei responsabili alla truffa delle polizze assicurative rottamate, si diceva, cioè vendevo una polizia assicurativa ad Alessandra, dopo un anno gliela facevo rivendere perché dicevo che dovevo rottamare quella per acquistarne un'altra, nel frattempo tu pagavi le commissioni sulla prima, le commissioni di uscita sempre sulla prima, e le commissioni di ingresso anche sulla seconda. Abbiamo denunciato le cosiddette manovre massive sui tassi di interesse, nessuno di noi, anche noi che siamo qui presenti in questa trasmissione, sa che le banche ogni 3-6 mesi applicano le cosiddette manovre massive sui tassi di interesse, aumentano impercettibilmente di uno 0,1-0,2. i tassi di interesse sia per quanto riguarda le parti di creditizie, ma riducono anche quelli per quanto riguarda i risparmi. Tu non te ne accorgi, caro Alessandra, perché prendi l'estate di conto di fine mese, non lo leggi attentamente. Meglio che non lo leggo, guarda. Meglio non leggerlo. Che circa il 93-94% dei consumatori, quindi dei correntisti che dicevano all'estate di conto, non leggevano quelle manovre massive. Quelle manovre. Tu solo sul 7% delle persone che se ne accorgevano, che leggevano e che se ne accorgevano, andavi poi a restituire il maltolto. Il 93% generava tanti di quei profitti. Sono solo alcune delle cose che abbiamo denunciato in Io so le prove, io so le prove, chiudo che il cui titolo è scelto da Lorenzo Fazio. Sì, editore di Chiare Lettere. Editore di Chiare Lettere. Un giorno lo inviterò qui, dovrà raccontarmi tante cose su Beppe Grillo, perché io l'ho intervistato e mi rilasciò in intervista a Bomma molti anni fa. Una persona eccezionale. Io so le prove perché mi disse se questo libro, noi lo pubblichiamo, se tu hai tutte le prove di quanto stai dicendo. Portai tutte le prove, non ho mai ricevuto una querela per diffamazione in otto anni dall'uscita da quel libro. Benissimo. Camillo, allora, l'inflazione. Abbiamo le prove dell'inflazione, perché io ho fatto mettere su da Giulio Cesare la canzone prima della sigla, Soldi, soldi di Renato Zero, e stavo notando che Renato Nazionale la cantava nell'anno 1982. E mi è venuto in mente, che lo commentavamo la volta scorsa con il professor Gualtieri, il nostro economista di riferimento. L'inflazione ha toccato negli Stati Uniti a dicembre il picco massimo e non si registrava proprio dall'82, ora come allora. Tu hai scritto un pezzo su Beconomy giorni fa, Mario Draghi, il momento della verità si chiama energia. Che ne pensi? Tu che sei un attento osservatore delle cose economiche. Che stiamo pagando il conto della pandemia, di quello che è successo in questi due anni. Sostanzialmente il blocco delle attività ha poi scatenato un eccesso addirittura di ripresa e questo porta a inflazione. Inflazione di cui spesso in passato ci si è lamentati che non ci fosse. Si cercava qualche elemento inflattivo. Voi sapete che soprattutto in Europa con l'Euro tutto il circuito finanziario è sostanzialmente drogato da continue emissioni di 80 miliardi, mi pare, mese da parte della Banca Centrale Europea dei tempi di Draghi che vengono continuati anche adesso che c'è un nuovo Presidente della Banca Centrale. Questo è chiaro che insieme ad altri fattori tra cui alcuni sono anche curiosi sostanzialmente. Quali per esempio? Quali per esempio? Quali fattori? Il fatto che i fattori sono essenzialmente un utilizzo di container mezzi di trasporto che è stato lasciato sostanzialmente ad altri mercati quello cinese quello russo e quello asiatico sostanzialmente tanto che noi non soltanto abbiamo l'inflazione in crescita in Italia ma abbiamo una difficoltà oggettiva nell'esportare perché non ci sono più container perché soprattutto la Cina ha monopolizzato ha preso per uno, due, tre anni tutto il trasporto sostanzialmente che lo dico in parole molto semplici per farci capire quindi non c'è soltanto l'aumento dell'energia l'aumento delle materie prime che porta l'aumento delle materie prime ora veniamo anche a questo la pasta esatto ma c'è tutto un sistema che viene da Est che è stato denunciato anche dalle nostre associazioni di imprenditori che non soltanto ci crea problemi interni nel livello di inflazione interno che ormai si aggira intorno al 4% ma che è rapida crescita ma soprattutto per il futuro e anche per le esportazioni che sono uno dei punti fondamentali della nostra bilancia commerciale e quindi che si traducono poi in PIL si va a creare delle disparità formidabili che molto probabilmente alla fine andranno a ricaricarsi sui consumatori che però sono consumatori ovviamente sulle nostre tasche e poi abbiamo visto la notizia della pasta hanno un stipendio fermo al 2000 esatto abbiamo visto la notizia della pasta anche diciamo gli echi della crisi russa gli echi di guerra vento di guerra vedremo cosa succederà si riverberano anche sulle nostre materie prime c'è un ascoltatore che ci dice ma la linea verde si occuperà anche di mercati agricoli prossimamente e vorrei che tu ci raccontassi un po' tu che hai uno sguardo un po' un orizzonte più ampio essendo appunto capovotore di linea verde e che vai insomma molto anche in giro per l'Italia qual è la situazione vera proprio dei territori non soltanto del territorio Italia come siamo messi? la situazione vera è che i territori c'è una differenza tra la piccola e media impresa e la grande industria che è un classico italiano cioè c'è un fortissimo ritorno alla terra da parte anche di giovani laureati nelle materie più disparate che vanno a recuperare migliorare e leggere con altri occhi le aziende magari del padre del nonno che erano magari state lasciate in disuso o avevano una produzione ferma a vent'anni fa e tutto questo sta creando un fermento straordinario che noi con la nostra trasmissione andiamo a ricercare a far vedere visto che l'abbiamo trasformata in una trasmissione di territorio andiamo a far vedere soprattutto le bellezze vi proponiamo soprattutto una gita fuori porta a cercare materie prime di ottima qualità e le eccellenze che a volte non vengono valorizzate no? mi sbaglio? diciamo che sono valorizzate anche grazie a internet c'è stato un forte movimento in questo senso il problema è il problema industriale quello della grande produzione perché comunque sono stati lasciati moltissime porzioni di territorio sostanzialmente incolte e ci si è riferito e questo purtroppo è l'Europa che ci dà l'esempio partendo dal gas e partendo dai chip dai microchip noi qua non produciamo più niente compriamo tutto da fuori perché viene prodotto a minor prezzo e quindi mentre una volta era l'Italia il paese della trasformazione delle materie prime adesso è tutta l'Europa che è diventata quando vengono a scarseggiare le materie prime per esempio la questione del grano che ci è importantissimo la pasta attenzione fino adesso la pasta è aumentata pochissimo perché stava nei magazzini c'è ancora quella dei magazzini è quella che sarà prodotta dopo che rischia un aumento del 10,8% adesso subito e si prevede arrivi a 38% oggi la stanno ancora vendendo sotto costo perché c'avevano i bancali pieni e quindi stanno cercando di continuare a mantenere un prezzo accettabile il futuro è quello che e soprattutto nel caso della pasta visto che hai titolato su questo non viene tanto lasciamo perdere l'Ucraina perché io ho delle mie idee che poi un giorno discuteremo adesso faremo una trasmissione un focus a parte verrai sensato un'altra distrazione di massa dopo il covid la realtà è che c'è stata una forte decremento della produzione di grano canadese che poi è messo sotto accusa perché è trattato con sostanze chimiche quindi potrebbe anche far male alla salute però l'importazione era soprattutto su quello il Canada ha deciso una serie di stakeholder ai quali vendere e dai quali l'Italia è fuori quindi adesso la nostra grande industria si sta sta puntando almeno con la terra si può fare ad aumentare il livello di produzione interna quindi aumenteranno le eccellenze aumenterà che ne so la pasta di la pasta di gragnano l'antico grano il senatore cappelli che però hanno costi di produzione e di vendita molto più alti della pasta al consumo del supermercato però certo la crisi c'è e prima o poi arriverà a impattare fortemente anche sulle tasche con questo allora Vincenzo imperatore siamo al termine già ma tanto io vi rinviterò e rinviterò te Vincenzo proprio per un focus particolare sui mutui e sui prestiti un consiglio o due consigli come ritieni a chi ora ha bisogno di un mutuo in questo momento in questo momento perché c'è tanta gente che ha bisogno di mutui ma fa un passo indietro perché ha paura vista la situazione così drammatica velocemente sì velocemente tasso fisso tasso variabile la domanda basica che si pongono tutti se nel momento in cui devono richiedere un mutuo i tassi fissi sono in aumento l'eurirsi il tasso di riferimento a cui si aggancia il calcolo per il tasso fisso è in aumento si stima che nei prossimi tre mesi anche quello variabile possa essere in aumento sintesi in questo momento qua anche se le banche vogliono indirizzarvi sui tassi variabili continuate a fare un po' di tasso fisso almeno per i prossimi tre mesi tasso fisso sono d'accordo confermi tasso fisso noi rimaniamo fissi domenica davanti alla tv cosa potrai anticiparci cosa può anticiparci cosa vedremo domenica prossima Camilo quali bellezze un bel viaggio un bel viaggio per noi l'Italia è tutta bella non vuoi anticiparci niente no va bene alle 12 e 20 alle 12 e 20 ma quanta voglia c'è di riscoprire i borghi d'Italia quanta dammi una a giudicare dal successo della trasmissione lo dico stanno riprendendo tanta vita c'è molto ritorno però è anche un ritorno che è anche una modifica questa era la curiosità che ti volevo dire se ho un secondo un secondo perché è partita dagli Stati Uniti e sta arrivando in Italia c'è tantissima gente che si sta dimettendo perché con il lockdown ha scoperto un nuovo modo di vivere e ha deciso di imboccare altre strade che non sono quelle di andarsi a mettere in fila per andare sul posto di lavoro qual è dimmela che lo faccio anche io ci rimettiamo tutti e qual è la strada qualcuno deve trovare la sua bene questa è una bella notizia e allora noi ci salutiamo vi ringrazio ti ringrazio Vincenzo Imperatore ti ringrazio Camillo vi aspetto prestissimo qui su Radio Libertà grazie a presto Radio Libertà in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Camisun Radio quotidiano di informazione cinematografica Gli occhi di Tammy Faye Tammy Faye che hai fatto? Ciao mamma lui è Jim Baker mio marito con Jessica Chastain ed Andrew Garfield Jim predicherà e io canterò servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi non stiamo facendo niente di mal Gli occhi di Tammy Faye al cinema Enigmi azione e avventura sogno questa roba da quando ero bambino la caccia al tesoro è inizio con Tom Holland Mark Wahlberg e Antonio Banderas al vincitore e il bottino Uncharted dal 17 febbraio solo al cinema Assassinio sul Nilo Vi presento Hercule Cuarón è il più grande detective vivente A febbraio ho investigato su molti crimini ma questo ha sconvolto la mia anima L'assassinio è solo l'inizio Quando hai molti soldi nessuno ti è mai veramente amico Assassinio sul Nilo dal 10 febbraio al cinema Se vuoi avere qualcosa di diverso devi fare qualcosa di diverso A San Valentino l'amore arriverà a tempo di musica Io sposerò te Jennifer Lawrence Owen Wilson e Maluma Chiamami se ti senti sola Mi sento sola Marry Me Sposami Dal 10 febbraio al cinema Il tuo film di San Valentino La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà Canale 252 Va ora in onda Rumore Radio Libertà ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori Ed eccoci qui nello spazio delle 17 Rumore tutto il rumore dell'economia ed ho il grande piacere di avere oggi ospite qui in diretta su Radio Libertà il professor Davide Tabarelli presidente e fondatore di Nomisma Energia una delle massime autorità nel campo dell'energia Buonasera professor Tabarelli Buonasera grazie delle parole molto gradite Ci sente professore? Sento un pochino l'audio basso mi metto mi scusi mi ero preparato bene metto le soffiette che funzionano decisamente meglio sì così siamo più energici professore siamo in tema di energia e partecipa anche alla nostra conversazione il professor Marcello Gualtieri dell'Università di Torino docente di macroeconomia di economia del lavoro che ha il piacere di stare con noi e che il professor Tabarelli ci aiuta in questo percorso il professor Gualtieri della economia reale per cercare di scomporre di comporre il mosaico che noi al martedì componiamo qui su Radio Libertà sui nostri conti quindi appunto sull'economia reale tutto quello che va ad incidere sulle nostre tasche e allora professore veniamo a quello che sta accadendo siamo subito diciamo sul pezzo due crisi due crisi interconnesse professore mi sente? c'è qualche problema di audio con il professore mi perdone mi sente? posso partire? benissimo e allora due crisi due piani di crisi che io direi interconnessi la prima quella geopolitica quella che attiene un po' alla Real Politik vedremo cosa accadrà domani sembra che il vento di guerra l'eco di guedecchi di guerra si stanno spegnendo vedremo se ci sarà questa scatterà questa ora X se ci sarà l'invasione russa in Ucraina c'è il ruolo dell'Unione Europea che dovrebbe giocare un ruolo da regista che però non mi sembra stia giocando in questo in questo momento perché ognuno degli stati membri gioca la sua personale partita a seconda dei propri interessi e poi c'è l'altra crisi quella dello shock energetico che va a cadere va ad inestarsi nella transizione energetica che noi abbiamo tutti creduto potesse essere diciamo lontana da potesse fare a meno delle energie fossili del gas e quindi il gas io l'ho ascoltata anche ieri sera lei era da Nicola Porro e diceva in maniera molto ferma e diretta bisogna far partire il Nord Stream 2 quindi questo gas d'otto io vorrei che lei rispiegasse il beneficio di tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori perché questo è necessario e quali i benefici che noi potremmo ottarne e soprattutto perché non si apre questo gandotto perché non si fa partire se si aprisse o se venisse annunciato i prezzi crollerebbero sono anche oggi fanno fatica ma sono scesi già un buon indicatore e le posso già anticipare lei è la prima a cui lo dico che dal primo aprile avremo delle riduzioni sulle bollette una bella notizia una grande notizia sì perciò eravamo del resto a livelli talmente alti che sono allucinanti ecco come molta gente purtroppo si accorta sui prezzi delle bollette e questo gasdotto è stato realizzato a fianco di un altro che è in funzione dal 2011 che corre sul fondo del mare baltico e non passa in nessuno dei paesi est Europa ex blocco sovietico e in particolare è stato realizzato per bypassare tutto il sistema di gasdotti che passa per l'Ucraina che tradizionalmente quella dall'Ucraina passava al grande noi dalla Russia importiamo 150 miliardi di metri cubi di gas all'anno l'Unione Europea sono circa il 40% ad esempio 30 vengono da noi 50 verso la Germania se questo sistema di nuovi gasdotti parte vuole dire che non devo passare più per l'Ucraina l'Ucraina e la Russia litigano da 16 anni io non voglio prendere la parte di Gazprom però l'Ucraina mentre passa il gas se ne è sempre tenuta finché era Unione Sovietica non succedeva niente poi le cose sono cambiate ovviamente politicamente vogliono portarsi verso l'Europa e l'Ucraina e hanno cominciato a litigare tra l'altro per il transito proprio per il fatto che questi tubi passano sul territorio ucraino Naftagas questa società che gestisce i gasdotti in Ucraina che sono tutti tubi però fatti dai vecchi comunisti chiede 2 miliardi di dollari ecco da lì adesso una volta passavano 100 miliardi che era quasi tutto adesso ne passano 40 altri 20 passano per la Bielorussia 50 nostri in uno e che sia chiuso questo è assurdo perché è chiuso per una questione formale perché era pronto a settembre doveva rispettare la necessità di aprire un ufficio in Unione Europea ma di fatto sono gli americani che per far pressione sulla Russia per la questione ucraina e anche i tedeschi però in particolare con la nuova ministra degli esteri la Verde e Baerbock che non vogliono questo nostro mentre oggi come è immerso anche oggi i social democratici a guida Schultz che è il cancelliere ha dichiarato qualcosa sì che però conta come il 2 di pic rispetto alla Merkel che purtroppo avrebbero da fare delle battute insomma su chi era più forte ecco e purtroppo siamo sotto questa questa morsa ecco io dico questo un po' perché è la cosa più semplice da spiegare anche poi ci sono delle altre complessità un po' perché secondo me gli Stati Uniti non hanno capito che la crisi politica le sanzioni le stiamo già pagando noi europei sulle bollette in particolare l'Italia che è il paese un po' più esposto che ha fatto per varie ragioni anche qua e allora questo va un po' urlato ecco ovviamente è difficile c'è una crisi politica militare c'era un rischio non voglio neanche chiamarla minaccia di guerra insomma c'erano delle tensioni politiche oggi di maio ho visto poco fa la conferenza stampa che ha fatto interessante bene tutte queste cose ma anche i nostri politici dovevano muoversi prima ecco ma questo massimo rispetto di super Mario ma voglio dire la nostra politica nazionale che litiga per il presidente si indebolisce insomma un Parlamento che non riesce da decenni a fare politica estera figuriamoci poi con questo con questo tipo di Parlamento dove c'è questa maggioranza strana e paradossalmente però abbiamo un ministro degli esteri che ha imparato molto velocemente molto bene il mestiere del politico e sta facendo anche bene questo è un altro paradosso del nostro sistema però ecco banalmente questo Nord Stream porterebbe più quantità di gas prezzi crollano crolla il prezzo dell'elettricità e anche le bollette crollano e riparliamo cioè poi dico certo ci buttiamo nelle mani della Russia ma lo siamo già adesso siamo completamente dipendenti dalla Russia cioè 40% fra l'altro qua entriamo un po' nei meccanismi cioè questo gasdotto non è che cambia tutto cioè noi ad esempio l'Italia a dicembre o tutto l'anno scorso ha importato leggermente di più dell'anno prima cioè non è che mancano le quantità dei contratti a lungo termine mancano piccoli volumi su questi mercati spot dove noi male auguratamente e in maniera un po' azzardata ci siamo affidati e i prezzi lì sono mancate poche quantità sono esplosi e anche qua però i regolatori non ci sono questo è un altro scatolo un'altra cosa lei accennava prima al nostro Super Mario come le dicevo la seguo da un po' e lei ultimamente diceva Super Mario Mario Draghi non può tamponare ma è ora di investire ecco quale tipo di investimento e poi un'altra cosa e poi le lascio tutta la parola e poi vorrei sentire anche il professor Guattieri che sicuramente vuole sottoporle qualche riflessione lei oggi sulla stampa dice un delitto rinunciare ai nostri giacimenti il metano serve ancora e questo insomma è una linea molto decisa molto forte poi c'è anche un passaggio che ho notato insomma comunque commentiamo questo mi dica anche l'altro passaggio mi dico anche l'altro ma devo mettere qui la luce lei parlava del piano per la dunque il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee credo che volesse parlare di calcio ecco perché parlavo anche di calcio nell'articolo anche perché anche il calcio ha qualcosa a che fare con l'energia e lei dice è anche questo qui è un documento perfettamente in linea con il declino che dura da decenni della nostra produzione nazionale è un giudizio molto forte è che mi sono tenuto un giudizio molto forte ecco le statistiche noi avevamo 21 miliardi di metri cubi nel 94 adesso sono 3 e continuiamo a importare tutta la differenza noi consumiamo 76 allora io è un è un dovere civico oltre che una soddisfazione personale che che mi scuso di questo perché per anni ho detto che serviva gli ambientalisti diciamo insomma questa fa parte della dialettica con gli amici nemici ambientalisti però è un dovere civico dirle queste cose perché la gente deve sapere che se noi abbiamo 200 miliardi di metri cubi di riserve di gas in Italia e non le facciamo per paura di questi impianti perché invece siamo i più bravi al mondo a farli e trasferiamo dei soldi all'estero il sconto è molto della serva è molto semplice ogni anno potremo produrre da noi 10 miliardi di metri cubi il prezzo ieri era 80 centesima metro cubo vuol dire che sono 8 miliardi a cui rinunciamo tra l'altro quest'anno di bilancia di bolletta energetica con questi prezzi che spero che scendano pagheremo 80 miliardi di euro cioè è una cifra pare quasi al 5% del PIL e questa è tutta minore crescita è minor lavoro dobbiamo dirlo alla gente questo vuol dire che fanno più pozzi in Libia o in Russia fra l'altro lì questo è molto semplice fra l'altro c'è un errore anche logico da politica io posso capire che uno voglia a tutti i costi salvare il pianeta e farle rinnovabili ma non è che bloccando le trivelle da noi che non sono neanche trivelle le piattaforme insomma la coltivazione dei giacimenti a me piace parlare in termini di mineraria addirittura di agricoltura di economia classica che è quella di tenere dietro le risorse per chi ne ha poche come è sempre stato il nostro paese ma non insomma perché siamo poveri ma perché è il buonsenso è la realtà delle cose ecco qua rinunciamo a fare economia a dare il lavoro ai nostri figli ai nostri laureati e soprattutto al nostro sud ecco perché molto gas e petrolio è ancora al sud la UE che ruolo sta giocando una domanda forse un po' retorica lo dicevo in apertura sta giocando un non ruolo in tutto questo anche perché la UE è la Unione Europea anche perché se le bollette schizzo non è anche un po' colpa del Parlamento Europeo no? cioè il conto poi dovrebbero pagarlo loro e non noi non è diciamo demagogia ma anche questo è un conto della serva professore non so se posso permettermi come dicevo prima noi dobbiamo innanzitutto forzare l'Unione Europea a fare delle indagini a capire bene cosa è successo magari rivoltare tutto questo mercato libero tornare ai contratti a lungo termine insomma ma queste sono questioni un po' di mercato di regolazione l'altra cosa che bisogna sottolineare è che in maniera democratica questa è responsabilità mia di nostra di chi si occupa di chi è più propesso a fare investimenti che non si è spiegato bene perché il Parlamento Europeo è stato come quello italiano nel 2018 quello italiano nel 2019 quello europeo un grande successo come la Germania a settembre 2021 un grande successo dei partiti verdi perché? perché c'è questa grande sensibilità sul cambiamento climatico e giustamente loro rispondono in maniera che è democratica da società civile ben organizzata ecco noi non siamo stati bravi a spiegare queste cose perché la politica dell'Unione Europea degli ultimi 20-30 anni è stata soprattutto ambiente invece dimenticando la sicurezza e l'economicità e in particolare c'è stata un'accelerazione dal 2019 con questa nuova commissione con questo patto verde Green Deal Green Deal che giudizione dà del Green Deal professore? è un sogno è un sogno una chimera insomma sì e politicamente serve a tenere unita l'Europa che ha grandissime differenze le ricordo che abbiamo avuto due guerre mondiali nello scorso secolo che ci siamo scannati anche nei precedenti millenni e parliamo lingue diverse non so se ne è mai scolta abbiamo un'unione guardi stavo caricando dei dati da Eurostat sull'inflazione ed è sempre impressionante vedere tutte queste diversità ci sono i documenti che sono in 27 lingue diverse però quelle che tutti usiamo in inglese guarda caso del paese che è uscito è un continente pieno di paradossi ha bisogno di grandi idee per tenersi insieme questa dell'ambiente è una di queste che ha questo grande merito però anche poi porta dietro dei rischi in sostanza questo del gas il fatto che ha detto qualche giorni fa ci siamo un po' lacerati su questa tassonomia del gas cioè ci può aiutare possiamo fare dei investimenti nel gas ma la Germania che sta abbandonando il nucleare e il carbone anche questo è pericoloso perché non abbiamo centrali le rinnovabili che su cui stiamo spingendo danni non sono in grado di sostituire il carbone e il nucleare fanno qualcosa ma non abbastanza ecco poi veniamo al nucleare professor Guattieri lei voleva sicuramente sottoporre al professor Dabarelli qualche riflessione prego sì buonasera Alessandro buonasera professore volevo chiedere al professore un suo parere in merito ad un progetto ad un'idea che insieme ad altri economisti avevamo elaborato all'incirca nel 2019 quando si apparesò l'idea di fare le famose triverazioni nell'Adriatico per sondare la quantità di gas nei giacimenti nei giacimenti sotterranei come sappiamo questa questa idea fu a seguito fu abbandonata dal governo per pressioni delle parti politiche e in quei giorni con alcuni economisti abbiamo elaborato un'idea che magari può ritornare di attualità cioè la nostra idea era questa era quella di sondare la quantità di gas presente in questi giacimenti ipotizzare quale poteva essere il valore delle concessioni per lo sfruttamento di questi giacimenti per i prossimi 20-30 anni attualizzare il valore di queste concessioni metterlo in un prodotto finanziario in modo da renderlo immediatamente disponibile per i conti dello Stato e utilizzare quello che è la somma proveniente dall'attualizzazione di queste concessioni che sembrava ammontare ad una sembrava di ammontare decisamente rilevante e indirizzare mettere a disposizione questa quantità come per fare un'operazione di riduzione di colpo dello stock del debito pubblico che avrebbe come dire ci avrebbe consentito di rientrare un po' nei famosi di ridurre non solo diciamo il rapporto debito-pil ma addirittura il debito in valore assoluto si trattava cioè di mettere a frutto una risorsa nuova una ricchezza nuova e mettendola a servizio di quello che è la più grande zavorra della nostra economia che è il debito pubblico volevo chiedere al professor Tavarelli una sua idea su questo progetto che abbiamo elaborato che magari adesso visto che si scopre la nostra soltanto nel momento in cui arriva la bolletta però questo succede si scopre la nostra debolezza sul tema energetico la nostra povertà di energia magari si rifarà un passo indietro e si ritornerà a recuperare questo gas dell'adriatico che altrimenti lo prendono dalla Croazia e poi non ce lo andiamo a comprare da qualche altra parte che ne pensa professore è una buona idea difficile da attuare come ho già sperimentato perché esistono delle regole consolidate ed internazionali nella produzione nella estrazione valorizzazione anche del petrolio abbiamo delle leggi noi in Italia adesso sono diventate un po' più confuse per ragioni ambientali sempre ma che sono quelle applicate in tutta Europa e tutto il mondo cioè insomma come si produce i canoni le royalties tutte queste cose perciò la vedo molto difficile sotto questo aspetto tra l'altro il problema anche se dovessimo essere d'accordo su questa iniziativa poi dopo dobbiamo comunque andare a livello locale sulle regioni a chiedere di dare approvazione ai progetti ma proprio per questo ricordo che giù in Basilicata c'è qualche idea di fare un fondo sovrano che non è la stessa cosa è un po' diversa ma ragionano sulla finanza cioè è un approccio di carattere finanziario innovativo l'altro aspetto importante che potrebbe essere utile per portare avanti questa idea è il fatto che accennava anche lei professore che noi abbiamo il debito più grande al mondo dopo il Giappone in termini rispetto al PIL perciò potrebbe essere una buona idea visto che abbiamo questa peculiarità possiamo andare avanti la Norvegia è diventato il paese più ricco al mondo perché ha fatto il fondo sovrano più grande al mondo oltre a un trilione ed è legato al petrolio perciò sono delle idee anche perché sa poi l'innovazione finanziaria ne abbiamo visti di tutti i colori giro per il mondo negli ultimi anni questa è una cosa molto più sensata c'è questa difficoltà del rapporto con le compagnie petrolifere sostanza leni faccio fatica a pensare che possa essere interessata però è una questione statale ecco una battuta la nostra idea fondamentale era quella anche di evitare la dispersione del valore di queste concessioni nei mille rivoli della spesa pubblica in questo frazionamento che ogni anno arriva una parte le regioni ne prendono una parte era proprio l'idea di mettere al servizio del debito pubblico questo stocco importante per evitare che tutto finisse nei mille rivoli della spesa pubblica in tutte le sue diramazioni e si disperdesse anche questa ulteriore fonte di ricchezza in mille spese magari improduttive queste un po' erano le due cose che cercavamo di mettere assieme ovviamente era una cosa molto complessa ma bisogna iniziare a lavorarci se iniziamo a lavorarci ci mettiamo la testa insieme a qualcosa se invece si dice come diceva lei no per un pregiudizio ideologico perché le trevelle ci fanno paura o qualunque cosa sia ci fa paura ovviamente ci troviamo poi a lamentarci quando arriva la bolletta il che è abbastanza francamente grottesco professore nucleare il ministro cingolani punta sul nucleare di quarta generazione cioè quello senza uranio e arricchito con acque di acque pesanti ma dove sono i reattori cioè quanto tempo ci vorrà anche questa è una chimera cioè per fare un progetto a medio termine come si diceva prima si è lontano non esistono progetti pilota di questo tipo nel mondo ci sono enorme difficoltà anche qua è una buona idea però io voglio ricordarle che in Europa la prima fonte di produzione elettrica col 25% attualmente è sempre nucleare io sono molto contento della decisione di Macron presa qualche giorno fa di fare altri dieci reattori perché è molto avanti Macron su questo sta spingendo a tutta sì solo perché il nucleare innanzitutto non è mai verde c'è sempre il problema delle scorie che però si possono gestire ecco il nucleare è l'unica fonte di grande dimensione che è programmabile a grande densità energetica e non emette CO2 di questo è il grande vantaggio ma perché è così in viso il nucleare da noi perché è così osteggiato ma è osteggiato da tutto il mondo ambientalista mondiale nelle democrazie i movimenti ambientalisti sono forti sono più forti di alcuni paesi sono forti in Germania tradizionalmente per ragioni anche storiche la natura da loro è sempre stata qualcosa di profondo nel loro rapporto anche che finiva nella filosofia nella politica e poi negli ultimi anni adesso dicevo il 20% delle ultime emozioni invece da noi è un po' perché c'è la debolezza di ciò che non è ambientalista cioè della cultura economica e industriale questo come dicevo prima lei mi ha chiamato autorevole ovviamente sono il più importante al mondo certo sono il più bravo del mondo ma è perché anche molto ironico e questo è molto importante per una persona autorevole davvero perché non ci sono molte altre autorità c'è un vuoto capisce di cultura industriale fa parte dell'indebolimento perciò la gente ha paura dei grandi impianti poi dopo c'è anche la responsabilità degli incidenti che ci sono stati c'è stato Cernobil nel 1986 Fukushima nel 2011 e la gente se lei chiede quanti sono stati i morti della centrale nucleare di Fukushima le dicono migliaia in realtà è stato zero c'è stato un morto per infarto perché poi la gente fa confusione fra lo Tsumani e il terremoto e l'incidente perciò c'è anche questa banalità ecco questa grande rivoluzione tecnologica dell'informazione che ci ha portato un amare uno Tsumani di informazione è una grande disattenzione ecco professore ci sono le imprese le micro imprese che sono stanno soffrendo tantissimo hanno un calo davvero di energia totale ecco lei tempo fa parlava di rischio di lockdown produttivo pensa che ci possa essere questo quale davvero può essere un investimento che ora noi abbiamo Draghi si può fare in Italia in Europa ma anche in Italia nostro proprio il nostro investimento per far ripartire le imprese che sono i minimi loro questo tessuto produttivo fatto di italiane che l'Italia abbiamo parlato solo di difetti finora poi anche grande ricchezza capacità di fare imprese voglia di lavorare far fatica lavorare in condizioni estremamente difficili ma guarda dico solo dalle rinnovabili ad esempio adesso i prezzi dell'elettricità oggi sono scesi un po' ma sono sempre 200 euro a megawattora cioè 20 centesimi al kilowattora se lei pensa che i costi di produzione fotovoltaico sono intorno ai 5 centesimi da 5 a 20 c'è tutto da guadagnare perciò anche gli installatori giù oppure chi lavora nelle paleoliche c'è da fare parecchio lì ovvio che sull'idrogeno sulle batterie come per fare nuova ricerca innovazione però io anche a me dispiace tantissimo l'automotive che sta soffrendo tanto tutta l'auto perché il diesel in realtà è ancora grande futuro consuma poco l'auto elettrica non si vende fa un altro tipo di mobilità c'è parecchio l'energia adesso scenderà dopo questa crisi questo prezzo però dobbiamo stare un po' più attenti a stare addosso ai politici stare addosso ai politici presentarmi un po' il conto professore io la ringrazio il nostro tempo a disposizione volge al termine questa rubrica pop economia rumore termina sempre con l'arte perché anche l'arte fa parte dell'economia è anche un motore di economia e vedo collegata la nostra amica giornalista di Libero Nicoletta Orlandi Posti se lei vuole rimanere per due minuti ho un grandissimo piacere perché ci farà vedere oggi una mostra piena di energia ogni settimana ci regala una mostra la più innovativa la più bella del momento la vogliamo vedere insieme? certo volentieri grazie grazie mille Nicoletta corrono le immagini Nicoletta c'è? collegamenti un po' purtroppo non avevamo Nicoletta ma ha abbandonato la ha abbandonato la conversazione ecco va bene comunque noi abbiamo tempo Giulio Cesare per raccontare la mostra oppure dobbiamo chiudere? sì però raccontala tu in un minuto perché abbiamo un minuto ecco Nicoletta ecco Nicoletta bene che la racconti lei allora perché è l'autrice di tutto questo Nicoletta ci sei? purtroppo non ci sente Alessandra quindi chiudiamo con te una mostra Tamico è una un grande oceano di energia però io non la vedo dobbiamo chiudere vero? mi dicono che dobbiamo sì stanno scorrendo le immagini e avete proprio 30 secondi se vuoi accennare non sento più nulla oggi abbiamo qualche problema non vi sento bene anzi male va bene allora ci salutiamo qui perché non non riesco a sentirvi più e a quasi neanche a vedervi il professor Tabarelli se mi senti io la saluto la invito di nuovo potremmo rilassarci godendoci una mostra ad alto tasso di identità ma dov'è questa mostra? a Milano ah beh dove a Milano? a Triennale guardi questo ce lo raccontava Nicoletta ma la vedo vedo che è scomparse quindi non so non so darle altre altre notizie grazie ma mi ha fatto incuriosire adesso come faccio me lo mandi per Whatsapp? assolutamente grazie mi sento arrivederci arrivederci grazie grazie professor Gualtieri arrivederci buona serata arrivederci avete ascoltato pop economia grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti